Il donatore Donatoni per chiamarne un altro, fin cadenti, vedendo la squadra in campo oggi dobbiamo dire che l'idea è stata buona, perché abbiamo visto una squadra compatta che ha saputo gestire momenti più delicati della partita, sei d'accordo? No, questo non lo so, noi giocatori dobbiamo pensare solo a scendere in campo e dare il massimo poi il presidente fa le proprie scelte, con me ci stiamo trovando bene e penso che si sia visto Non è la prima giornata, ma è di fatto la gara inaugurale di questo campionato nelle ultime 17 stagioni, la Roma ha perso solo due volte all'esordio nel 2009 contro il Genoa nel 2002 contro il Bologna Cos'è anche là, resiste alla carica di Biondini, occhio a suo sinistro, lo provo, Cos'è anche là ma in difficoltà ragazzi Totti, lascia partire il cross, col po' di testa di Osvaldo Agassi, la fa su Alejandro Rossi, lo sguardo al centro, prova in dribbling, ha superato Nainggolan Tottò per Pjanic, zona tiro, Pjanic, Agassi, Osvaldo fuori gioco C'è Pjanic, si fa vedere Poyan Dentro per Osvaldo, con il destro Acassi, in qualche modo Attenzione a Biondini, prova con il destro, traversa Grande opportunità per i Cagliari Avanza Rossi, mette dentro Bontallone E non ci arriva nessuno Oddio a Kossu però, la sua velocità Kossu, trova il destro E il padrone che esce non di molto C'è anche una deviazione Totti, se ne va per conto suo C'è spazio per il cross Suo effetto, ha molto bene Agassi non arriva, Morriello Soprattutto, Agassi C'è spazio per il cross L'effetto ha Piondini dall'altra parte solo Conti col destro 1-0 Daniele Conti E' il quinto gol in carriera alla Roma Sopre lui a colpire Una palla messa in mezzo All'aria E' arrivata la palla Daniele Conti Molto bravo nel controllarla E calciarla subito di collo Nell'angolo basso Alla destra Vista che è di contro Buon pallone per Oseankel Attenzione Si infina Oseankel Arriva fino in fondo Poi va giù Tutto regolare Poi è lui a commettere pallo E anche forse a prendersi il giallo Il rosso Rosso diretto Ecco Oseankel Va giù Non c'è nulla E' un brutto intervento questo E' cercato Morbido il centro Per Morriello Sponda Osvaldo Il destro E pallone ribattuto Il fischio di Dama Partito T Agazzi In qualche modo Occhio a Kossu Ibarbu Kossu Pallone alto Bella la conclusione di Kossu A giro con il destra Lo scatto di Elkabir Al centro c'è Nene Possibilità per il Cagliari Elkabir 2-0 Si presenta così Al suo nuovo pubblico Elkabir Giù della partita Fattotti Con il destro Agazzi in qualche modo E poi arriva il gol Del 2-1 Lo segna Daniele De Rossi Fa tempo scaduto